Non si fermano i controlli dei carabinieri nelle scuole del Bassanese e del Marossicense per contrastare lo spaccio e l'uso di stupefacenti. In questa settimana sono stati ispezionati due istituti, una media e una superiore. Nel primo caso controllati 140 ragazzi di sei terze con l'ausilio di unità cinofila, antidroga del nucleo carabinieri di Torreglia e con l'impiego di due equipaggi dei militari. Nel secondo caso impiegati unità cinofila, antidroga, tre equipaggi dei carabinieri, cinque operatori di polizia locale controllati 190 ragazzi. C'è una buona notizia perché proprio grazie a questi controlli intensificati e al dialogo costante tra dirigenti scolastici e forze dell'ordine non è stato trovato nulla di illegale.